Hanno sfondato con l'auto l'ingresso laterale del locale. L'obiettivo era il denaro contenuto nello sportello automatico, ma le cose non sono andate secondo i piani e così i malviventi sono fuggiti a mani vuote. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri nel quartiere Europa per una tentata rapina avvenuta nell'ufficio postale di Andrea 3 di Vialdomoro. I banditi, almeno in quattro, sono entrati in azione intorno alle 19.30. Incappucciati, a bordo di un Audi A6 station wagon di colore scuro, sono andati dritti contro una delle due porte d'ingresso. Tutto è durato pochi secondi tra la paura generale delle diverse persone che hanno assistito alla scena. Una volta sfondata la vetrata con la parte anteriore dell'auto, i rapinatori si sono diretti verso il postamat, mentre un addetto stava completando le operazioni di ricarica contante previste per il fine settimana. Scattato il meccanismo di sicurezza a tempo, non è stato però possibile forzare lo sportello automatico e prendere il denaro contenuto al suo interno. Risultato? Niente soldi, niente bottino con i malviventi che sono risaliti in macchina e si sono dati alla fuga. Immediato l'arrivo dei carabinieri della compagnia di Andrea che hanno effettuato i primi rilievi. Sul posto, oltre ai tanti curiosi, anche gli operatori del 118 intervenuti in ambulanza per prestare soccorso all'addetto che si trovava all'interno dell'ufficio postale, colto da malore. Un valido aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza, i cui filmati sono stati acquisiti dai militari.